Il problema è sempre lo stesso, sebbene si evidenzi soprattutto, se non unicamente in piena estate, quando il danno ambientale che colpisce per tutto l'anno si trasforma in un danno economico ed immagine per una città come Nicotera, che forte di una spledita costa potrebbe puntare sul turismo per garantirsi crescita e sviluppo, ed invece deve lottare contro l'inquinamento, il mare sporco e le denunce dai bagnanti. Queste immagini sono pericolosamente eloquenti e mostrano senza ombra di dubbio, spiegando ed individuando le cause di quel mare sporco che da lustri condiziona lo sviluppo turistico lungo l'intero litorale nicoterese. Si tratta di un tubo in piena attività di scarico di liquami fognari proveniente dall'ex depuratore del Fosso San Giovanni, un collettore a sud di Nicotera Marina. Tutto il letto del corso d'acqua in sostanza si è gonfiato di acque maledoranti che infiltrandosi nel fitto canneto che arriva quasi sino alla foce, sboccano nel laghetto a ridosso della battigia che nel frattempo si sta trasformando in una cloaca a cielo aperto. Il sospetto è che qualcuno, agendo nel buio della notte in anonimato, si stesse preparando, avvicinandosi nelle previsioni meteorologiche del cattivo tempo con possibili temporali e il mare mosso, a svuotare le vasche dell'ex depuratore nel San Giovanni, il cui livello sale sino a diventare un problema di sicurezza oltre che di igiene. I liquami, infatti, potrebbero invadere il tubo delle acque bianche provenienti da Nicotera Marina e spingerle indietro verso l'abitato sino a farle fuoriuscire dai tombini. Per evitare un evento del genere si fa ricorso all'intervento provvidenziale della Ruspa che, rompendo il muro di sabbia antistante la foce del San Giovanni, consente all'enorme quantitativo di acque stagnanti di finire in mare, portandosi dietro tutto il suo carico di veleni nocivi per l'ambiente marino e per la salute. Ma, al di là dei sospetti e di ogni altra considerazione, rimangono eloquenti queste immagini sconcertanti del collettore San Giovanni carico di miasmi che sverse in quantità, mettendo a rischio la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle risorse naturali. Eppure, su quanto accade nel collettore, realizzato negli anni Cinquante per raccogliere tutte le acque piovane da destinare all'irrigazione e divenuto nel tempo ricettacolo di liquami e fognari, ci sono state anche recentemente segnalazioni da parte di comitati ed associazioni. Il corso d'acqua, peraltro, confina con un altro villaggio turistico, con la sede della Lega Navale e con numerose abitazioni. Finora, le proteste degli interessati sono cadute nel vuoto. Adesso vi sono i video con cui Antonio Montuoro sta inondando i social dal cumbine della sua attività di ricerca e di denuncia che da tempo porta avanti. E vi sono le immagini che proponiamo ai telespettatori. Quali risposte arriveranno? Qui siamo a 50 metri dall'impianto di cosiddetto ex depuratore che qui arrivano tutte le fogne di Nicotera e Nicotera Marina. Si convogliono in alcune vasche e dovrebbero essere pompate alla IAM di Gioia Tauro dove lì c'è il depuratore. Invece viene tutto qui sversato. E quindi, come vedete, questo è un fatto di grande gravità perché siamo in piena estate.